Ragazzi buona giornata a tutti, buon sabato a tutti, ben ritrovati in questo mio nuovo video Ovviamente parleremo della partita di ieri sera Allora, permettendo che ho bloccato, bannato una persona che mi seguiva Perché ieri ho fatto un video un po' più allegro diciamo E ovviamente, ovviamente c'è sempre qualcuno che poi ti va a dare dell'incoerente E queste cose qua a me non piacciono per niente Perché io, ripeto, dimostro quello che provo in quel momento Che sia gioia, apatia, frustrazione, quello che volete voi Ieri provavo, non dico gioia, ma soddisfazione, ok? Sotto questo aspetto Detto questo, guardando anche un po' i mi piace Vi fa capire che comunque quello che vi dicevo le settimane passate Quando, se tu dimostri più gioia, più godimento e quant'altro E non sei troppo critico Di fatto, di fatto la gente apprezza molto di più Quindi quando si dice che l'essere contro allegri Il criticare sempre e quant'altro porta più riscontro Dice una grandissima ed emerita cazzata Bene Altra cosa, innanzitutto mettete mi piace al video Mettete mi piace al video Sotto in descrizione ovviamente tutti i social, Instagram e quant'altro Soprattutto Instagram mi raccomando Ma mettete soprattutto mi piace al video Prima cosa da fare per aiutare appunto noi creators Ah, creators, creators Bom A parte questo, altra cosa Io noto invece dell'incoerenza da parte di chi di fatto è fanboy di Allegri Che dice che qualcuno dice No, ma io sono tifoso a Juventus Qualcun altro lo dice direttamente A me fa sorridere perché poi quando vince la Juventus Soprattutto contro il Napoli O contro il Milan e quant'altro Ha vinto Massimiliano Allegri E non ha vinto la Juventus Allora quando Poi vi lamentate di quando non si vince Di quando si gioca Veramente di merda Non è che ieri abbiamo fatto chissà che partita Ma poi ci arriviamo Poi andate a dire Eh ma parlate solo di Allegri Di Allegri Di Allegri C'è un motivo se si parla sempre di Allegri E molte volte non ci si gode neanche la vittoria Perché purtroppo c'è gente come voi nella nostra tifosaria Poi io ho cercato Soprattutto ieri di fregarmene Purtroppo di questa gente che c'è nella nostra tifosaria Che è più tifosa di Allegri che della Juventus Ma va bene Va bene Poi passiamo noi per tifosi di Serie B O poco tifosi Perché critichiamo sempre Ma va bene Va bene Ripeto va bene Però questo ragazzi è un dato di fatto Da una parte C'è purtroppo questa gente qua Che continua a tifare molto di più Allegri A elogiare molto di più Allegri Allora se l'anno scorso Siccome molti mi hanno detto Eh ma l'anno scorso Allegri era abbandonato se stesso Quest'anno invece Quindi l'anno scorso era colpa della società e non di Allegri Primo anno non gli hanno fatto la Vi ripeto il mercato Secondo anno la penalizzazione Il CDA che si dimette Il terzo anno vediamo che Alibi tireranno fuori Ma vabbè Il terzo anno è l'obiettivo il quarto posto Quindi se non si vince Così ragioneranno gli Allegriani quest'anno Se non si vince Se arriva 3-4 Il suo l'ha fatto Se si vince ha fatto un miracolo Ed è da esaltare e da fare una statua Questo sarà il ragionamento di quest'anno di Allegri Per quanto riguarda gli Allegriani Però l'anno scorso mi dicevano appunto Che la colpa è la società che l'aveva lasciato solo Quest'anno invece è merito di Allegri Che sta facendo Diciamo Sta riaggruppando un gruppo Quindi allora Ditemi L'anno scorso non c'è la società Quest'anno c'è giunto lì Però ha merito di Allegri Evidentemente c'è anche merito di giunto Li credono Però siccome io A differenza vostra Sono molto più onesto intellettualmente Io ho dei meriti Non a livello di prestazioni Non a livello di gioco Neanche a livello di risultati A livello di Essere riuscito a riprendere una situazione Che secondo me Era deficitare Anche per colpa di uno Come Leonardo Bonucci Anche se aveva le sue Diciamo ragioni Però al di là di questo Allegri ha dei meriti Perché io sono sempre Per dare I giusti meriti A tutti gli allenatori Al di là appunto Delle Delle situazioni societarie Delle idee calcistiche Di prestazioni Moduli E quant'altro Allegri ha il merito Grazie a Giuntoli Che comunque ha fatto da tramite Ha dato Un punto di riferimento All'allenatore Che comunque Ne ha bisogno anche lui Sicuramente Però Allegri Si è fatto valere Nello spogliatoio Di fatto Allegri È un allenatore Che al di là appunto Con qualcuno Soprattutto con i giocatori Che hanno fatto un certo Ha dato un qualcosa Al calcio Veramente di importante Perché con i campioni Ha sempre avuto a che fare E ha bisticciato molto Allegri Va detto Per questo dico che In un Real Madrid Non so quanto avrebbe fatto Avrebbe vinto le Champions Perché comunque Non lo so Non lo so Per me Lui gestisce bene La squadra più forte D'Italia Perché comunque Qualche campioncino Qualche campione L'abbiamo avuto anche noi Ma non eravamo Una squadra Di campioni A differenza Di quello che accade A Madrid Però È riuscito a ricompattare Un gruppo È riuscito a Far sì che I giocatori Non avendo Idee di calcio Un'organizzazione offensiva Perché neanche ieri Abbiamo avuto Chissà che trami di gioco Abbiamo fatto Chissà che trami di gioco E abbiamo avuto Chissà che organizzazione Offensiva Perché quando si parla Di organizzazione E di equilibrio Ripeto L'equilibrio Lo si fa anche Con la fase offensiva E non è che abbiamo fatto Chissà che fase offensiva Ieri siamo andati Per inerzia Da un certo punto di vista E siamo andati Per intensità Dall'altro punto di vista Cosa che Necessita Assolutamente Soprattutto Un sistema di gioco Come il 3-5-2 Perché Avendo appunto Un giocatore in meno In fase di non possesso Soprattutto Quindi abbassi Due quinti E difendi a 5 Se tu Subisci passivamente Sempre l'avversario Sei destinato Ad abbassarti Quindi Sotto quell'aspetto Va dato atto Quindi L'atteggiamento L'avere Riagruppato Un po' il gruppo Un po' il gruppo Perduto Detto questo Dovesse vince un scuetto Allegri lo voglio Comunque via Non è un discorso Ripeto di trofei E neanche di prestazioni A questo punto Ma proprio Una questione di essere Sotto scacco Ripeto di un tesserato E dei suoi Adepti Soprattutto Quindi Molte volte È colpa Degli allegriani Se dall'altra parte Poi c'è l'estremo opposto Quindi Ripeto I figli Quelli che tifano Contro Quelli che Molte volte Anch'io sono apatico Sono figli vostri Nel senso che Li avete E ci avete creato voi Nel senso che Con tutta quella Esasperazione Quando è arrivato Allegri È tornato Allegri Il combattere Chi criticava Allegri E chi non lo voleva Ha fatto si che poi Si Diciamo Nascessero Ecco Anche Questi sentimenti qua In noi Ecco Quindi Questo andava Sottolineato Detto questo La partita di ieri Ripeto È stata È stata una partita Con il giusto Approccio Il giusto Atteggiamento Ho rivisto Spezzoni Della partita di ieri Ho rivisto Anche i primi minuti In secondo tempo Dove abbiamo fatto Un buon pressing Allora Partendo un attimo Dal gol Sbagliato Da Kvalaskeira Vorrei Sottolineare Lì come Ho rivisto il gol Che per me Ci sono varie responsabilità C'è la responsabilità Di Bremer Che si fa ingolosire E si spinge in avanti Ma era libero Kostic Ha una responsabilità Che non l'ha Crossata subito In quella Su quella matonella Dove c'era Bremer Che era da solo Ok Adesso non so se riesco A farvi vedere Ok Eccolo qua Vedete Kostic C'è Bremer Che attacca lo spazio Da solo E qua Non crossa subito Fa altri due tocchi Si fa chiudere Poi la crossa in mezzo E la fa E se la fa rispingere Ok Questo è una delle Occasioni Delle situazioni Che Appunto Aspetate Che Abbiamo avuto Ieri Sulla ripartenza Poi Del Napoli Ok Con Kvalaskela Che Guardate un po' Qua In fase di tradizione Negativa Lasciate stare Un po' Fuscato Perché Purtroppo C'è solo St'immagine Una delle Responsabilità Gatti Non poteva fare Altro Ma una delle Responsabilità Che non si è Sottolineata È proprio Di Rabiot Perché Rabiot Ha la visuale Migliore Di Gatti E può Guardarsi Dato che Gatti È lui Che va su Osiman Può guardare Dove stanno I propri I suoi compagni E gli avversari Qua Rabiot Fino all'ultimo Va a raddoppiare Un giocatore Che è per via esterne Su Gatti Ok Con Gatti E qua Poteva Tranquillamente Lasciare Nell'uno contro uno Sicuramente È rischioso Ma È meno rischioso Siccome è che Lasciare Un giocatore Contro zero Quindi qua Rabiot Doveva guardarsi Attorno Vedere Kvalaskela E scalare Su Kvalaskela Invece questa cosa Qui non l'ha fatta Ha seguito Pure lui Osiman Dando una mano Sicuramente A Gatti Però Ha lasciato Libro Kvalaskela Dall'altra parte Non è solo colpa Di Rabiot Sicuramente È colpa Un po' Di tutto Diciamo Il reparto Difensivo In questa situazione Qua Perché non può Per un giocatore Che sale Come Bremer Farsi trovare Così impreparata La difesa Allora O qui Anche Gatti Doveva salire Sulla linea Di metà campo Invece era appena Sotto La linea di metà campo Quindi tenendo in gioco Osiman Allora Ovviamente rischi Perché comunque Osiman è un giocatore veloce Se lui parte sulla linea Si è fregato Sotto questo aspetto Ma qua Sono stati sorpresi Tutti Ripeto L'errore principale È di Bremer Possiamo dire di sì Però se poi Fa il gol Siamo qua tutti A esultare Certo Sono rischi Che ti prendi Ok Sono rischi Che ti prendi Però Stai fatto Che secondo me Qua È un insieme Di errori Ok Per me Qua Rabiot Sbaglia Perché secondo me Qua deve andare A scalare Cioè devi guardarsi Non guarda Quello è il problema Suo principale Perché Rabiot Ragazzi Ieri Anche Rabiot Si dice In questo momento qua Della Juventus Il giocatore imprescindibile Che piazza o non piazza È McKennie In questo momento qua Perché È il centrocampista Che ha fatto molto meglio In questo inizio di stagione In questi primi mesi È un giocatore Che rende molto Che secondo me È molto intelligente E viene sottovalutato Sotto questo aspetto Non è scarso Tecnicamente Viene sottovalutato Anche su questo aspetto qua Rabiot Ieri Primo tempo Mediocre Secondo tempo Sufficiente Ha fatto il compitino Ma Questo errore qua Siccome È suo Anche Anche suo E nel secondo tempo Comunque Quando dovevamo gestire Il pallone Ha cercato delle giocate Di fino Di tacco E queste robe qua Che ha Riconsegnato subito La palla a Napoli È un giocatore Con l'esperienza sua Che va per i tanti Ok Che piglia 7 milioni di euro l'anno Ricordiamo Ripeto Soprattutto Che piglia uno stipendio Da top player Non ti può accontentare Del compitino Non ti può accontentare Di dire È da equilibrio Ma che cazzo vuol dire Questo equilibrio di merda Cosa vuol dire Cioè capite Purtroppo Quando non si sa Come esaltare Un giocatore Si dice Eh ma da equilibrio Da equilibrio Possiamo dire Che da sostanza Fisica Rabio Va bene Sono d'accordo Non è un giocatore Che io prenderei mai In una mia squadra Dove si fa allenatore Rabio Mai nella vita Cioè preferisco Sotto questo aspetto McKenny Rabio Ma l'ho sempre detto E lo dirò sempre Ok Come tecnica Siamo lì Per me Cioè non è che Rabio sia Un fenomeno Tecnicamente In questo momento qua Ragazzi Per Dinamismo Sostanza E aiuto Che da Siccome è Imprescindibile McKenny In questo momento qua Perché sta bene Con la testa Cioè È il giocatore Tra tutti Che è quello Anche che dà Più continuità Alle prestazioni A parte le ultime due partite Che tecnicamente Ha sbagliato tanto Ma A livello di continuità È il giocatore Che ha dato più continuità Alle prestazioni Rabio Va e non va Capite Non è iniziato benissimo A parte la partita Contro il Monza Non ha fatto chissà che Mesi In questi mesi qua Cioè È stato parecchie volte Insufficiente A volte anche gravemente Insufficiente Rabio Quindi In questo momento qua Siccome è McKenny È il Poi Altra cosa Ecco Cosa che mi è piaciuta Ieri Che mi ha auspicato Ah Altra cosa Velocemente McKenny Ieri Più che dare una mano Ha Cambiaso Ok E quindi Ha cambiaso Ho rivisto Appunto alcune ispezioni La partita Ha cambiaso Aumento di mezzo voto Il voto Quindi da 6 e mezzo Passa a 7 Perché effettivamente Cambiaso Gli ha dato una mano Più gatti a Cambiaso Che McKenny Sotto questo aspetto McKenny McKenny Ho rivisto Attentamente Alcune situazioni McKenny Ha annullato Zelischi Annullato Zelischi Cioè McKenny Più che dare una mano A Cambiaso Ho dato una mano Locatelli Locatelli Che comunque Adesso vedremo Il pressing Che si è fatto Il pressing offensivo Che si è fatto In alcuni casi Ma McKenny Locatelli Ho riuscito a fare Quello che Adesso andiamo a vedere Ce la faccio vedere Subito Vediamo se Ok Questa situazione qua Vi faccio vedere Ecco No Scusate ho sbagliato Bene Ottimo Perché Bisogna sbagliare Per forza Allora Situazione Questa qua Ok Dovrebbe Adesso andare Dovrebbe vedersi Ecco Questa situazione qua Pressing Offensivo Ok Se voi guardate L'unico in ritardo È Kostic Kostic per me Ha giocato male In tutte le fasi Qualcosa Nel secondo tempo In aiuto Difensivo L'ha fatto Ma non mi è piaciuto Per niente Però Quello che vi dicevo Ieri in live Quando ho visto Lobotka e Ciaranoglu Tra Napoli e Inter Quello era il lavoro Che volevo che facesse Locatelli Non che venisse Pressato Lobotka Da un difensore Da un attaccante nostro Ma Da Dal nostro mediano E tant'è che Lobotka In fase di iniziazione In Napoli Veniva Spesso e volentieri Seguito Da Locatelli Poi Quando noi ci abbassavamo Non serviva Fare chissà che Pressing su Lobotka Perché comunque Lobotka Anche se ha il pallone Ma tutti gli altri Sono marcati Cioè può avere Il pallone Quanto cazzo vuole Però Veniva sotto Quell'aspetto Magari Pressato un po' di più Dagi attaccanti Che tornavano Ma Sull'iniziazione Del Napoli Era Locatelli Ma questo lavoro Ma questo lavoro qua Lo poteva fare Perché poi Mekenni seguiva Molto Zelisky Che si accentrava Come vi dicevo Andava su Si accentrava In fase di iniziazione E in fase Diciamo Dello sviluppo Dell'azione Andava su Trequarti Zelisky E Mekenni sotto Questo aspetto Seguiva Molto 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 Zelisky E quindi Quello lavoro là Che ha fatto Locatelli in fase Di appunto Pressing iniziale Sullo Botka Quindi avanzava L'ha potuto fare Grazie Soprattutto Alle due mezziali Perché Dalla parte Mekenni Dall'altra Rabiot Che comunque Adesso qua Non si vede Però Di solito Magari andava a marcare Lui An chissà Faccio un esempio Mekenni si occupava A Duomo Di Zelisky Quindi sotto questo aspetto Bene Bene Ripeto Meglio Per me è stato Mekenni Il migliore in campo Gli ho dato Sette e mezzo Non ha fatto Nuna di trascendentale Ma ha fatto Tutto Alla perfezione A parte qualche errore Finale Sicuramente Però Per il resto Sicuramente Ha fatto tutto Alla perfezione Quindi Sotto questo aspetto Veramente Bene Rabiot Ripeto Ha fatto il compitino Non ha fatto Chissà che cosa Ha dato una mano Sicuramente a Kostic Questo va detto Però Partita 6 Ecco E E quindi questo Questo per quanto mi riguarda Per quanto riguarda La partita di ieri La mia contentezza Non è tanto Non è stato tanto Sulla partita È stato il fatto Che ho rivissuto Una partita Della Juve Come la vivevo Prima che tornasse Allegri Ecco Questo Ma non Ripeto Né per la prestazione Ma neanche per il risultato Neanche per il fatto Che potevamo andare I primi Ma proprio all'inizio C'è la partita Mi sono detto Ascolta Ascolto questo qua Non me ne frega un cazzo Degli Degli Allegriani E stavolta qua E poi c'era la cosa Di De Laurenti C'erano altre cose Altre situazioni Alvino E quindi ho detto Affanculo Non sai cos'è A parte che Vabbè la tifoseria napoletana È proprio Antipatica Sotto quell'aspetto Allora ho detto Porca puttana Stavolta Voglio tornare a tifare E ieri Veramente avevo Quell'emozione Che non provavo Da un po' Di tempo Ecco Questo sicuramente Poi Lo stadio Ha accompagnato Molto bene E non è un caso Che siccome In casa Si fatica Un po' meno Rispetto All'anno scorso A quando è tornata Un po' la curva Mi dispiace Che ci siano Ripeto L'altra volta Il partito Allegrista Adesso Partito Cortomuso Ste cose qua Quello sta a significare Che voi tifate Molto di più Massimiliano Allegri Della Juventus Perché ho visto Alcuni standardi Sta cosa qui Purtroppo Non fa altro Che dividere La tifoseria Ma la gente Non lo capisce Continuate A fare queste puttanate Va bene così Poi non lamentate Se c'è qualcuno Che ti fa contro Però Perché se Alla fine Lo dicevamo E lo dicevo anche Con Gianni L'altro giorno Alla fine Purtroppo Per colpa di questa gente qua Cioè poi Ti portano Le saspirazioni Ti dico Sai cosa c'è Va a fanculo Speriamo di prenderne Quattro Così cacciano Sto allenatore qua E quelli che lo sostengono Se ne vanno a fanculo Insieme a lui Perché purtroppo Ti portano a questa Esasperazione Qua ripeto Questa divisione Il tifo È per colpa Di questo tipo Di tifosi Che abbiamo Da quando è tornato Allegri Soprattutto Ma anche da prima Da quando si è andato La prima volta Quindi Vabbè Da quando è arrivato Sarri Pirlo Vabbè Comunque Questo è il Il quanto Ieri non abbiamo fatto Una grande partita Non abbiamo fatto Una grande partita Una partita da 8 È stata una partita Da 6 e mezzo Per me Allegri gli ho dato 6 Difficilmente Gli do la sufficienza Perché mi è piaciuto L'atteggiamento Soprattutto All'inizio Del secondo tempo Dopo il gol Che abbiamo continuato A cercare Anche se l'abbiamo fatto Più per entusiasmo Che per dettami tattici Gli ultimi 15 minuti Sempre disastrosi Con Allegri Ma sempre Sempre Infatti è la parte Che purtroppo Non lo fa Siccome è grande Il allenatore Allegri E Sotto quell'aspetto Però Allegri Per me Ha preparato Benissimo La partita Calcolando Che Allegri È quel tipo Di allenatore Là Ovviamente Non è un Un allenatore Che fa Chissà che Calcio Ok Calcolando Che Allegri È quel tipo Di allenatore Allegri Ha preparato Bene la partita C'è poco A fare Ok Il Napoli Ha sfidato Due volte Il gol Sì Su due cazzate Nostre Guarda Scheyla Abbiamo sbagliato Con tutti Con Bremer E con tutta La fase Difensiva Compreso Il centrocampo E Il doppio Rimpallo Con Bremer Gatti Con Gatti Bremer Che là Non sarebbe stato Fuori gioco Perché era una giocata Quella lì Di Bremer Con Bremer Gatti E con la parata Se non sbaglio Proprio su Gelischi Di No Su purità Non mi ricordo Vabbè Di Scesni Ok La cazzata Poi la di Scesni Che ci ha fatto sudare Freddo Ovviamente Per fortuna Che era fuori gioco Lo G-Man Per quello Poi ho passato Mezzo voto a lui Ieri Sì Perché Ho ascoltato Il consiglio di qualcuno Perché da 7 a 6 e mezzo Quell'errore Poteva costare Veramente caro Cioè là Non puoi fare Quell'errore Non puoi assolutamente Fare Quell'errore Quindi Sotto questo aspetto Mi sarei incassato Molto di più Con Scesni Che con Allegri Avessimo parigiato Per colpa Di quell'errore Detto questo Ripeto Atteggiamento Discreto A tratti Buono Tatticamente Allegri è stato Perché poi Quando si dice Ha fatto bene Cambiaso Ma Ha fatto bene Cambiaso Su cosa Non i fasi Possesso Se noi guardiamo Con Allegri Si esaltano I giocatori Sempre in fase Di non possesso Perché ha contenuto Kvalaskela Perché McKenna Ha contenuto Zelischi Perché Locatelli Non ha fatto bene Ieri Però comunque Ha tenuto Botta Sulla 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 Bodka Rabbio In fase Non possesso Aiuta Molto Costi Noi Esaltiamo I giocatori Individualmente In fase Non possesso E non va bene Questa cosa qui È un grande limite Che abbiamo Perché in fase Possesso Non vedo mai Non sento mai La valorizzazione Di Allegri In fase Di possesso Di questo O quell'altro Giocatore Perché in fase Di possesso Anche ieri Dimostra Di non avere Chissà che Organizzazione Offensiva Cioè Abbiamo avuto Degli sprazzi Con Chiesa Diciamo Un atteggiamento Di un certo tipo Collettivo Per inerzia E per voglia Di vincere la partita Perché a differenza Della partita Contro l'Inter Ieri abbiamo avuto Voglia di vincerla E l'abbiamo vinta E probabilmente Poteva andare Così anche Con l'Inter Avessimo avuto Un po' più di palle Sotto quell'aspetto Però Detto questo Piccola chiosa finale Ai napoletani Ho sentito I napoletani Che hanno detto Abbiamo giocato meglio Nella Juventus Meritavamo di più Abbiamo giocato bene Dove Dove avete giocato bene Dite Adesso io Non so Allora Sicuramente Il possesso palla Ce l'avrete Più alto voi Ma quello Conta fino a un certo punto Perché poi Anch'io sono Per tenere sempre Il possesso palla Vabbè Avete 66% Di possesso palla 34% Noi Ok Va bene Ma io non guardo le statistiche Perché non mi piace Bisogna contestualizzarle Il gol premisto Diciamo 1-26 Noi 1-41 Voi E 1-41 Voi Per cosa? Per quell'azione di Quaraschera Per quell'errore nostro Perché se voi dite Che avete sbagliato Sul gol di Gatti E voi avete Avuto due palle gol Tre Su cazzate nostre Individuali Non collettive Perché eravamo sollecitati Negli ultimi 15 minuti Avete fatto male di noi Avete dominato E ci siamo abbassati troppo Sicuramente Perché voi dovete Per forza trovare il pareggio E noi purtroppo Abbiamo questo atteggiamento Remissivo Col 3-5-2 Ancora di più E con un attore Che gli ultimi 15 minuti Fa sempre questo Purtroppo Subisce sempre O è sul 2 o 3-0 O se sei sul 1-0 Rischi sempre Con Allegri Purtroppo E questo è un limite Di Allegri E probabilmente Lo è sempre stato Lo è e lo sarà sempre Ed è per questo Che secondo me Appunto Non è un grande allenatore Però Che partita Migliore avete fatto di noi Primo tempo È stato equilibrato Ok Con Chiesa Che ha fatto due Iniziative individuali E Quaraschera Ieri bocciato E vi ho detto Esaltati tutti Per il primo anno Vediamo se dà continuità Agli anni Quaraschera Come le ha E Due palle gol vostre Con Quaraschera Su errore Individuale Di Bremere Collettivo poi E Su un impallo Tra Bremere e Gatti Che la palla è arrivata Appunto Al vostro giocatore Da solo contro Chiesny Dov'è questo Gran dominio Per me Anche il primo tempo È stato discreto Qualche iniziativa nostra Qualche iniziativa vostra Sicuramente Col primo gioco A favore vostro Ma non mi pare No chissà che cosa Ok Secondo un tempo Meglio noi Abbiamo iniziato bene E il possesso palla Si è abbassato così tanto Per gli ultimi 15 minuti Perché avevate sempre Il pallone voi E non uscivamo mai Infatti la ho detto Avrei levato Meccanica Che era stanco Ho cambiato Metti meccanica A destra E lo facevi Stare sullo basso Per contenere E basta Ma avrei messo Nicolucci Caviglia Per palleggiare meglio Per uscire palla al piede Per uscire Tecnicamente Dato che Allegri Non da trame di gioco Quanto meno individualmente Mettere un giocatore Con quelle caratteristiche Perché non uscivamo più E questo modulo Purtroppo Con Allegri Soprattutto Ma in generale È un modulo Che comunque Ti costringe Ad essere Intenso E basta Una volta che Calla in intensità Subisci l'avversario È un modulo Per questo Che a me Non piacerà mai E soprattutto Appunto Con Allegri Che per me Allegri è più È un attore A dia di tutto Nato Per la difesa 4 Ma vabbè Non sa lavorare Su Bremel Bremel Con quei sui limiti Sicuramente Vabbè Detto questo Io vi auguro Buona giornata a tutti Buon weekend a tutti Sempre e comunque Fino alla fine Forza Juventus E niente Ciao Napoletani Ah Il 5-1 Osimene Il 5-1 Sai dove Poificartelo 5-1 Ripeto Un anno da leoni O un anno da Campioni Diciamo Un anno da campioni Non cancella Una vita Di delusioni E da coglioni Eh A livello ovviamente Calcistico Dai 5-1 Perde 1-0 In casa nostra E va a rinfacciare Il risultato Dell'anno prima Quanti cazzo I risultati Dovremmo rinfacciarvi A voi Ma state ziti Novi scuetti I file Parlano ancora Questi Ma Vabbè Buona Ah Altra Parentesi Tifosi Napoletani Cacciati Dall'Allianza Stadion Vergogna Vai a vedere Erron Senza Biglietto Non cambierete mai Ciao